Un saluto da Strasburgo. Solo due settimane fa il Parlamento europeo diceva no ad una risoluzione con cui la Lega chiedeva di abbassare i costi dell'energia per i consumatori. Ma non sarà questo no a fermarci. Dopo due anni di lavoro incessante sul tema, abbiamo dimostrato che l'impegno e il lavoro di squadra possono fare la differenza. Proprio per questo darò il via a Strasburgo al coordinamento di una nuova controoffensiva assieme agli alleati di identità e democrazia. Una controoffensiva con un unico e preciso scopo, cioè evitare che il nuovo pacchetto di regolamenti che la Commissione ha presentato a luglio si traduca in un nuovo bagno di sangue per le imprese e i consumatori. Ecco di cosa discuteremo fra qualche ora con gli alleati europei. La controoffensiva è pronta e la Lega è ancora una volta ai posti di combattimento.